presentati oggi risultati delle analisi dei campioni d'acqua prelevati dei volontari di Goletta Verde sulle coste della nostra regione otto i punti campionati lungo le coste abruzzesi due nella provincia di Teramo due in quella di Pescara e quattro in quella di Chieti tre prelievi sono stati eseguiti alle foci di fiumi e cinque sono stati prelevati a mare quattro in tutto i punti oltre i limiti di legge secondo il giudizio di Goletta Verde come spiega ai nostri microfoni il presidente regionale Giuseppe Di Marco. Quest'anno di fatto confermiamo il trend dello scorso anno abbiamo quattro punti che sforano e quattro punti che sono entro i limiti diciamo il quadro sostanzialmente è lo stesso da un punto di vista numerico abbiamo però variato dei punti quindi questa distribuzione è diversa rispetto a quella dello scorso anno sostanzialmente questo dato che ci dice che siamo ancora in una fase di stallo dobbiamo accelerare sul tema della depurazione ma soprattutto il dato che emerge è che le criticità più forti vengono mantenute all'interno dei fiumi quindi ci auspichiamo che anche la politica messa in campo dalla regione sui contratti di fiumi inizia a dare i suoi frutti. Alla conferenza stampa di Goletta Verde ha partecipato anche il vice presidente del regione Emanuele Imprudente. Per quanto riguarda la regione sono costantemente monitorate grazie al grande lavoro che fa Arta con competenza e professionalità e che evidenziano il fatto che c'è un mare che è un mare pulito. È un mare che stiamo ricevendo diverse bandiere blu insomma negli ultimi anni è un crescendo segno che c'è una pulizia delle nostre acque importante. Si sta facendo un lavoro importante insomma in questi anni soprattutto a Monde con una serie di interventi molto ancora deve essere fatto sul sistema depurativo ma noi ecco anche a ridosso dei fiumi stiamo facendo un lavoro di grande programmazione con i contratti di fiume. Il direttore generale dell'Arta Maurizio Dionisio ha però parlato di acque in buona salute per la nostra regione rispondendo anche ad alcuni articoli di stampa di testate nazionali. Il nostro mare è in ottima salute e anche se ci sono pubblicazioni in giornali nazionali che dicono il contrario riteniamo che quei dati non siano condivisibili. Goletta Verde è preziosa nel suo lavoro, le metodiche, i punti di prelievo sono diversi da quelli che effettua Art Abruzzo e loro effettuano una giornata di campionamento, noi le effettuiamo su cinque mesi ma purtuttavia io dico che quattro occhi guardano senza altro meglio di due e quindi prendiamo atto anche del loro lavoro. Possiamo dire che sostanzialmente comunque la situazione è migliore rispetto agli anni scorsi? Lo affermo con assoluta perentorietà certo.